I nati dopo il 2010 sono generazione alfa, tantissimi ascoltatori e ascoltatrici hanno figli proprio di quell'età che parlano lingue che non capiscono, fatte di tantissimi neologismi di cui stiamo cercando di capire in qualche modo il significato Poi è bello comunque che ogni generazione abbia le parole sue che guarda caso nascono proprio per non farsi capire È una forma di costruzione della propria identità, della propria indipendenza Della community Esatto, lo trovo molto sigma Brava No ma non è sigma, già usata sbagliata Comunque stiamo vedendo un po' di queste parole A proposito di simp, che ricordiamo significare Sottone C'è una persona che si prende troppo cura dell'altro, spesso ricercando affetto, molto empatico Ci arriva una possibile origine Simp credo che derivi dell'inglese sympathetic, compassionevole, empatico Ah vedi, grazie Però con un'accezione un po', un filino negativa Andiamo avanti Allora c'è Sì, vai vai Allora cap, no cap Cap sta a indicare una bugia Dall'inglese he's capping, sta mentendo Ok Quindi si dice semplicemente cap Per dire bugia 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 Capivo Bugia Oppure dici Quel cantante è il mio preferito, no cap Ah Vuoi dire giuro Se giuro Giuro Poi Ok È chiaro no? Sì Sì Chad C-H-A-D Che sta a indicare uno stereotipo maschile attraente e popolare? Sei un chad Ah Da Bo Eh non lo so Eh non lo so Sai che voglio dirlo? Awad Ciao Awad, sei un chad Però Awad lo salutiamo sempre dicendogli sempre e solo Miau Povero Lui fa le fusa però eh Un pochettino Attenzione Chad è una parte del corpo maschile, una parte intima Ok quella Secondo Urban Dictionary Grazie Thank you so much Ottimo Poi passiamo al femminile Concetto femminile Sei una Karen Questa sono io Ve lo sento Sei una Karen sono io Termine che indica una donna presuntuosa ed esigente E vedi? È la mia storia Io ragazzi sono troppo una Karen Questo lo voglio usare Bello Oppure potrebbe esserci qualcuno che è molto sus Che vuol dire sospettoso, sospicioso Ok Credo che venga da lì E poi andiamo avanti Andiamo andando verso la top alta eh Ok I primi tre I primi tre termini importanti Al terzo posto Glow up Glow up Si riferisce a una trasformazione positiva nell'aspetto, nella sicurezza di qualcuno Sì è qualcuno che sboccia, che fiorisce, che Nell'ultimo anno ho visto il tuo glow up Grazie Non lo possiamo usare Ma guardava a me mentre l'ha detto Sì ma poi ha guardato subito dall'altra parte Ho guardato nel vuoto un po' Sì accanto Quella fioritura tra noi non c'è No e poi NPC 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 credo che sia Non player character Per descrivere qualcuno che agisce in modo prevedibile che non ha personalità Ok Che è proprio un NPC Ok Ultima Eh vabbè questa si sa ormai è stata molto sdoganata E cringe Ok Cringe è qualcosa che mette in imbarazzo socialmente Mette in imbarazzo Cioè fa sentire Noi Ti mette Cringe Pinocchio Noi singolarmente Noi come gruppetto Noi come programma Noi Cringe Eccoci